Allo Stato Comune di Secchiano in Nuova finita chiamata a riscatto dopo aver perso le prime due gare del 2019. L'avversario di turno è una diretta rivale per la vittoria finale del torneo. Il Riccione che all'andata si impose a Nicoletti per tre reti a due. Occhi puntati sulla stella Tolomeo per gli ospiti. Nuova finita chieschiera il tridente offensivo affidato a Stefanelli, Baldinini e Muratori. Arbita la gara il signor Tola della sezione di Cesena. Pronti e via. Un disimpegno della difesa di casa scaturisce la prima conclusione ospite verso lo specchio della porta a cura di Capitano Bolzonetti. Mira in questo caso da rivedere. Lo stesso Bolzonetti illumina per Gallissi cui colpo di testa termina a lato. In Nuova finita va in gol a primo a fondo. In Muratori pensiero si affida alla concretezza di Stefanelli. Il nazionale sanmarinese parte da lontano inconeandosi in area avversa dove Tacchi in uscita nulla può sul raso terra preciso da parte dell'attaccante. 1-0 e sesto centro di stagione per il numero 9 gialloblu. Lo stesso attaccante sulle ali dell'entusiasmo stoppa di petto il passaggio di Capitano Rinaldi favorendo la vola di Muratori. Tiro centrale bloccato da Tacchi. Maricione non ci sta e previene al pareggio. Al minuto 31 Ceccaroni rinvia sui piedi di Bolzonetti. Quale la sua partita? Un raso terra raccolto da Gallissi che al momento della battuta viene toccato secondo giudizio arbitrale da Bambini. Per Tolla trattasi di penalti dagli 11 metri. Tolomeo non tradisce l'appuntamento con i gol che vale il pareggio ospite. Lo stesso Tolomeo è protagonista 60 secondi dopo. Derivio vincente per liberarsi al tiro ma conclusione imprecisa. Replica giallobru affidata al piede di Balducci. Concursione da posizione di filata che Tacchi blocca. Mai gol nell'area arriva al 43esimo. Lo stesso Balducci di forza va via all'avversario. Mette al centro. Cross sventato sui piedi di Amantini. Il cui tiro cross viene raccolto da Baldinini e gol del sorpasso con zampata vincente indirizzata nell'angolino. Per Baldinini, Temasch, una partita di grande cuore e sacrificio risulterà tra i migliori dei suoi. Tola a questo punto esce a fine primo tempo ascoltando dirigenti e protagonisti in campo. Bambini ha qualcosa da dirgli dato il rigore fischiato contro. Nella ripresa di Dicione segue subito un doppio cambio. Il primo acuto è di Rinaldi al primo minuto. Concursione debole e centrale. Tolomeo invece prova a colpire da calcio piazzato ma la palla si alza. Qui invece Semplini deve uscire al di fuori della di rigore per stoppare l'inserimento di Facchini. Tolomeo non ci sta ma il calcio piazzato presente nel suo repertorio anche in questo caso è da dimenticare. In nuova fette invece colpisce in contropiede. Stefanelli in questo caso mette potenza fisica e potenza nel tiro finale ma la mira rimane in tasca. Prima che capitare in Aldi lo serve a dovere per la stupenda volé della riete gialloblu che spegne soni di gloria a Riccionesi e accende l'entusiasmo della folla che da tempo voleva una prestazione così dal proprio bomber. Riaccogliendolo a braccia aperte. 3 a 1. Il Riccione non demorde ma un'azione corale della squadra porta il tiro strozzato di Stellato. Pallone a lato. Spazi che si aprono. Stefanelli forse fuorigioco. Stoppa dei tacchi ma nel tentativo di evitare l'uscita dei tacchi colpisce malamente la palla del poker. Mentre Musabegliu si aiuta come può su questa incursione di Mamutai che lo porta a spedire sul fondo l'ennesimo tentativo di chiusura del match. Il Riccione ha il merito di rimanere in partita fino alla fine. Semprini blocca questa percussione di Facchini con un pallone lento che arriva direttamente tra i suoi guantoni. Poi deve intervenire in due occasioni prima sul tiro di Cavoli dalla distanza poi su una concursione dalla distanza sempre ad opera in questo caso di Sciuni. Ora dopo un mese e mezzo stop permettendo in nuova felita conquista del terzo posto in classifica tornando a fare la voce grossa e la propria ola davanti al suo pubblico.